buongiorno ben ritrovati con l'appuntamento della social web tv oggi abbiamo qui con noi luca mariani giornalista parlamentare buongiorno luca e luca mariani qui con noi oggi perché in questi giorni ricorre l'anniversario di un tragico episodio era il 22 luglio di sette anni fa in norvegia quando andres brevik uccise più di 70 persone molti dei quali facevano parte della gioventù erano giovani che si erano riuniti per un appuntamento annuale un campeggio della gioventù laborista e socialista allora luca mariani oltre ad essere un giornalista parlamentare navigato giornalista parlamentare aver coperto diciamo i lavori di aula negli ultimi 30 anni forse e si appassionò al caso delle stragi di utoia e ha scritto un libro il silenzio sugli innocenti perché il silenzio sugli innocenti il libro è questo il libro è questo il silenzio sugli innocenti e il titolo è chiaro ovviamente un gioco di parole voluto il silenzio sugli innocenti perché quel maledetto 22 luglio 2011 andres bering brevik uccise prima con un'autobomba otto innocenti nel palazzo del governo di oslo e poi si recone l'isola di utoia dove si riuniscono i giovani socialisti e laburisti di tutta europa dai tempi della seconda guerra mondiale e in 77 minuti massacrò 69 adolescenti una strage terrificante forse la più efferata dai tempi della seconda guerra mondiale dai tempi dei nazisti in europa occidentale fatto salvo il massacro di srebrenica però se noi andiamo qui sotto al pantheon ad esempio e parliamo di nizza di bataclan di manchester di bruxelles delle torri gemelle di londra eccetera tutti si ricordano perché c'è stato un ampio un'ampia copertura mediatica su queste stragi di matrice islamica invece questa strage di utoia viene totalmente ignorata dai più qualcuno dice quel matto ma è una bugia brevi che scrisse un manifesto politico di 1500 pagine in cui prefigurò la vittoria dei nazionalisti degli anti immigrati degli anti unione europea e elencò anche una serie di partiti amici tra cui lega e forza nuova in italia le penne in francia fra i heitliche partai in austria pvv in olanda vlansbelang in belgio veri finlandesi in finlandia tutti legati al partito considerato più forte e robusto cioè russia unita di putin ebbene lui scrisse questo manifesto politico tra il 2009 e il 2011 la strage fu del 2011 e lui anticipò quell'alleanza che poi si realizzò nel 2014 quando tutti questi partiti a loro volta collegati con russia unita fondarono un gruppo unico all'europarlamento sono partiti che adesso sono al governo in vari paesi europei tra cui l'italia dove la lega al governo l'austria dove fra i heitliche partai al governo insomma brevi che prefigurò già nel 2009 un'alleanza che all'epoca era veramente difficilmente immaginabile e fece una strage terribile che è stata sostanzialmente nascosta all'opinione pubblica ecco perché il titolo del libro è proprio il silenzio sugli innocenti e gli innocenti ovviamente sono i giovani adolescenti dell'isola di utoia partiamo proprio da quelle 1500 pagine da quel manifesto politico che poi fu alla base dell'ecidio tu hai fatto un lavoro il tuo libro ha vinto il premio matteotti nel 2014 hai fatto un lavoro di vero e proprio giornalismo investigativo cioè hai girato per l'europa per l'italia per cercare di ricostruire le tracce che hanno portato poi di quel percorso che ha portato brevic a redigere prima il suo manifesto e poi a compiere la strage allora quello che è interessante capire è nelle 1500 pagine del manifesto quali sono gli elementi che emergono che ci fanno comprendere l'esistenza di una rete non fosse altro ideologica o una vera e propria rete operativa che poi ha portato alla nascita di un progetto politico così ampio innanzitutto va detto che lui inviò questo manifesto politico di 1500 pagine a 8109 indirizzi email in tutta europa indirizzi email di partiti ma non solo anche di singoli individui lui e lo scrive lui stesso fondò i cavalieri templari nel 2002 a londra appunto in cui l'obiettivo è liberare l'europa dagli immigrati entro il 2083 perché 2083 perché sono 400 anni dopo il fallito assedio degli ottomani a vienna detto questo fece anche dei viaggi paesi baltici regno unito bielorussia repubblica cieca ungheria malta liberia malta soprattutto dove incontrò diciamo anche persone che hanno rilasciato poi interviste che nel libro sono citate in cui hanno detto che brevi che sostanzialmente ha seguito le idee del loro gruppo eccetera quindi dal punto di vista ideologico c'è una rete evidente testimoniata sia dalle email inviate dallo stesso brevi sia appunto dalla rete di partiti indicati da brevi perché i cavalieri templari nazionalisti anti europeisti anti immigrati possano prendere il potere entro il 2030 negli stati europei e questo al fine di cacciare gli immigrati dall'europa finire il lavoro entro il 2083 chi se ne andrà con le buone riceverà un chilo d'oro per gli altri si userà la forza c'è tutto un programma preciso si parla anche poi della necessità produttiva comunque ormai gli immigrati sono anche forza lavoro in italia ormai ci sono circa l'8 per cento della popolazione composto da immigrati ebbene lui già immagina ad esempio aree di lavoro dove gli immigrati potranno rimanere 12 mesi con uno stipendio triplo a quello che percepirebbero nel loro paese d'origine e poi però alla fine dei 12 mesi verrebbero rimpatriati punte basta una specie di diciamo così campi di lavoro di itleriana memoria tutto questo è scritto tutto questo è evidente palese l'unica cosa che non è stata fatta è divulgare questo manifesto nazionalista e xenofobo all'opinione pubblica perché non è stato fatto è un punto importante di quello che ci ha portato ai giorni nostri luca l'altro giorno il segretario del partito socialista riccardo mencini in senato ha ricordato insomma le strade la strage di utoia contro quale progetto ha sparato brevic cioè uccidendo quei giovani contro che cosa stava lottando brevic contro quale idea d'europa dunque innanzitutto ringrazio la web tv del partito socialista per questo spazio e ringrazio riccardo nincini perché nel settimo anniversario della strage è stato l'unico parlamentare ad alzarsi in aula nella fattispecie al senato e ricordare i martiri di utoia voglio anche citare le sue parole perché secondo me hanno un significato importante lui ricorda tutta la strage ricorda i partiti amici citati da brevic e poi conclude lo faccio nel nome della libertà di pensiero e di una condanna verso un'ideologia che rischia di trasportarci terribilmente in un drammatico precipizio questa è stata la chiusura del suo intervento in aula al senato e secondo me è vero ha ragione voglio sottolineare queste parole perché lo penso anch'io questa ideologia può portarci ad un drammatico precipizio se l'italia in futuro uscirà dall'unione europea penso che sia un danno se preverranno ideologie di tipo xenofobo e razzista penso che sia un danno se torneremo all'italia nazionalista autarchica e penso che sia un danno viceversa e riccardo nencini al segretario del psi quindi con una lunga tradizione internazionalista penso che costruire ponti sia la soluzione migliore oggi e anche domani e anche ieri e quindi precipizio di cui parla il segretario del psi è una minaccia concreta da evitare Luca Mariani giornalista parlamentare autore del libro il silenzio sugli innocenti le stragi di Oslo Toia grazie grazie a te Roberto